La terza è la terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici La terza è la terza classificata con il tempo di 39 sedici E' fatto vedere i nostri 10 ciclieri che è morto un rischio per il 2003. E' fatto vedere i nostri 10 ciclieri. E' fatto vedere i nostri 10 cicli. 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 Pronti a partire per la Saino 49, ultima per i 50 diversi esordienti B2, corsia 1 dalla Fai Cento, Urisco 2003, Alessio Simone Alfredo, l'Avinante Settorino, corsia 3 per Caciale Alessandro Cesare, l'Avinante Settorino, alla 4 Bertoldi D'Avo, Mato Idorno, alla 5 Bassino Daniele, l'Avinante Settorino, alla 6 Veroni Sanuele, Masi, alla 7 Manara Lorenzo, San Giuliano, alla 8 Marcioli Diego di Verona Cattolica, corsia 9 per Di Giulio Leonardo, Giuso Milano, alla 10 Scalmici di Posto Castopoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.